Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema, vi lascio con il trailer di oggi e subito dopo le notizie. E tu? Papà mi ha impedito di vedere l'unica persona per cui ho deciso di venire in questo posto di merda con voi. Se lo dico a papà ti ammazzo? Quel maiale tutti gli anni mette in città mia figlia! Quell'estate del 1981, mia sorella, che allora aveva 21 anni, era già madre di una bambina di 6 mesi. La muta non si sapeva bene da qui. Sono le 10 e mezza. Alle 12 e mezza qui. Ciao. E questa? Questa che poi è tuo nipote, per oggi sta con lo zio. Io avevo preso tre materie a settembre per il secondo anno consecutivo. Dovevo studiare come un pazzo. Vuole studiare a stestate, eh? Tosto. Pochi mesi prima papà aveva avuto un infarto che ci aveva fatti spaventare da morire. E ora doveva riposarsi. E come se non bastasse ultimamente le cose tra lui e la mamma non andavano proprio bene. Ma che ci fai qui? Come fai? No, ascolta. Scusami, scusami. Scusami. Ti chiedo scuola. Come fai? Se ti metti contro di lui, la fa solo stare peggio. La mamma sa quello che deve fare. La vita di coppia è così. Un giorno stai bene. Dove andai? Sembra che tu sia felice. E il giorno dopo fai fatica a guardarti il faccio. Hai capito che la devi piantare? Se Antonio si dovesse tirare indietro. Mi potrei offrire io. Se tu fossi innamorato di me sarebbe un bel guaio. Perché? Mi sa che ti farei soffrire. Fu per tutti questi motivi che decidiamo di tornare alla casa in campagna e passarvi ancora una volta le vacanze insieme. Senza sapere che per ognuno di noi, per un motivo o per un altro, quella sarebbe stata un'estate un po' speciale. Allora stasera. I fans di gare con macchine da corsa saranno molto felici di sapere che è in arrivo l'ultimo Fast and the Furious, il numero 6 per la precisione. Nel cast vedremo ancora l'attore Vin Diesel che ha appena postato sulla cover di Facebook una foto del film. Nel cast ci saranno anche Paul Walker, Dwayne Johnson, Giordana Brewster, Gina Carano, Michelle Rodriguez e Luke Evans. Diretto da Justin Lin esce il 24 maggio 2013. E per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata.